Cominciano ad arrivare i primi dati dell'affluenza alle urne e del risultato dei candidati presidenti alla Regione. Un commento con Filingeri, uno dei sei sfidanti per il Piemonte. Il commento è che siamo sulla soglia che ci immaginavamo. C'è una lista che è nata un mese e mezzo fa, raccolta, adesso siamo sull'1.5. Noi stiamo lanciando questo messaggio per portare un'alternativa non solo in Piemonte ma poi in Italia. Quindi un'alternativa di sinistra che si discosti dal PD. Chiaro la difficoltà, chiaro che è un progetto che deve continuare sull'onda della lista Tsipras che fortunatamente è entrata in Europa.